. Al Televoto e quindi a rischio eliminazione ci sono questa settimana Stefano Salli, Andrea Mainardi e Alessandro Cecchi Paone, quest'ultimo protagonista negli ultimi giorni di violenti scontri con le due sorelle Provedi. Le parole pesanti e l'aggressione verbale del giornalista nei confronti delle due ragazze non sono piaciute a molte per tale motivo potrebbe essere proprio lui a dover abbandonare la casa nella puntata di lunedì. Secondo le anticipazioni, lunedì dovremmo assistere anche a una seconda eliminazione anche se non è dato ancora sapere con che modalità avverrà. Anticipazioni puntata del 12 novembre, Cecchi Paone potrebbe lasciare la casa in seconda eliminazione Le anticipazioni del grande fratello Vip per la decima puntata del 12 novembre 2018, rivelano che ci sarà nel corso della serata una seconda eliminazione. Non è ancora dato sapere come avverrà, se ci sarà una catena di salvataggio come nelle scorse edizioni o se gli autori del reality abbiano studiato un altro modo. Sta di fatto che nelle ultime puntate i telespettatori non hanno assistito alle tanto amate nomination che caratterizzano da sempre il programma. Comunque sia, prima di tutto ciò, assisteremo all'eliminazione di uno dei tre concorrenti al televoto, chi tra Stefano, Andrea e Cecchi Paone dovrà abbandonare la casa del GF Vip? Il rumor sdanno per favorito e quindi probabile eliminato proprio Alessandro, il quale si è reso protagonista nei ultimi giorni di violenti scontri con le due gemelle Silvia e Giulia Provedi. Ma non tutto è come sembra al grande fratello Vip e solo domani sera alla chiusura del televoto conosceremo il nome del primo eliminato della serata. Cecchi Paone, potrebbe essere il prossimo eliminato dopo le violente liti con le Donatella. Alessandro Cecchi Paone sin dal suo ingresso nella casa di Cinecittà si è reso protagonista di duri scontri con gli altri coinquilini. Ultimo in ordine di tempo è quello che lo ha visto scagliarsi con parole dure contro Giulia e Silvia Provedi. Alla bionda delle Donatella ha dato dell'ignorante mentre Silvia è stata pesantemente attaccata per i suoi trascorsi con Fabrizio Corone. Le parole velenose e di modi di Cecchi Paone hanno alzato la tensione in casa, tanto che Silvia durante l'ultima discussione è scoppiata in un piano più disperato ed ha accusato il giornalista e divulgatore scientifico di essere arrogante e presuntuoso e di voler dare a tutti insegnamenti di vita. Cosa ne penserà il pubblico da casa? Sarà Cecchi Paone a dover abbandonare la casa del GF Deep nella decima puntata? Comunque sia, come visto dalle anticipazioni sulla puntata del 12 novembre 2018, non sarebbe l'unico a dover lasciare il gioco. Grazie a tutti.